Non si fermano i controlli intrapresi dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania nell'ambito di un'importante azione di contrasto ai furti di parti di autovetture o motoveicoli. Solo dallo scorso gennaio, in riferimento a tale fenomeno delinquenziale, i militari dell'arma hanno già operato sei arresti in flagranza e otto denunce a piede libero. Si tratta, nel primo caso, di due pregiudicati tratti in arresto a Mr. Bianco, poiché sorpresi nel tentativo di smontare un catalizzatore da un'auto e trovati in possesso di due ulteriori marmitte di provenienza illecita, di un altro pregiudicato bloccato mentre stava smontando un bauletto da uno scooter parcheggiato dinnanzi dalla Banca d'Italia e di due individui entrambi con pregiudizi di polizia fermati nel quartiere Picanello in un garage privato nell'atto di cannibalizzare una vettura rubata nuova di zecca per rivenderne i pezzi. Da ultimo, qualche giorno fa, nel territorio del comune di San Giovanni-la Punta, l'arresto in flagranza per furto aggravato di un 31enne, colto mentre stava trafugando due ruote in lega complete di gomme e quattro coppette centrali da un'auto sistemata su mattoni di cemento. In merito ai deferimenti per ricettazione e furto, i militari hanno invece proceduto nei confronti di un pregiudicato catanese scoperto in via Zialisa mentre vendeva abusivamente ricambi rubati di fronte alla propria abitazione di due soggetti, già noti alle forze dell'ordine, sorpresi in via Plebiscito mentre cercavano di smontare uno sportello da un veicolo di un residente del quartiere Librino, trovato in casa con 18 catalizzatori e due gruppi ottici posteriori di un'auto di provenienza illecita e di due catanesi con precedenti di polizia specifici, colti in possesso di una centralina appena rubata nella zona del vecchio ospedale Garibaldi. A ciò si aggiunge il deferimento in stato di libertà di un privato cittadino che a Mascali aveva realizzato una discarica abusiva di parti d'auto da rottamare in un fondo agricolo e di un secondo deferimento di un commerciante di parti d'auto usate che a Catania, presso il proprio punto vendita, è stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di pezzi di ricambio di verosimile provenienza illecita del valore di oltre 3.000 euro. In tale ambito i controlli svolti sulla città proseguono grazie alla collaborazione tra il nucleo radiomobile del reparto operativo e le compagnie etnee. Assai importante è stata l'operazione condotta qualche giorno addietro dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Infatti alcune pattuglie di militari hanno deferito in stato di libertà un 61enne del posto titolare, a suo dire, di un autoricambi sito tra la zona di San Leone e il centro cittadino. Il soggetto gestiva un'attività commerciale di vendita di parti di autoveicoli senza alcuna autorizzazione o licenza e in violazione di alcune normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel negozio sono stati trovati innumerevoli pezzi, un vero e proprio supermercato dell'auto usata il cui ammontare economico, da una stima per difetto, si aggirerebbe almeno sui 150-180.000 euro e di cui il gestore non ha saputo minimamente giustificarne il carico o la provenienza. Inoltre nel cortile sono stati individuati parti rotte, oli esausti e altri rifiuti che anziché essere smaltiti con le cautele del caso, si trovavano lì senza alcuna cura. La gestione di questo bazar è costata all'uomo una denuncia a piede libero per ricettazione, gestione illecita di rifiuti e violazione degli obblighi del datore di lavoro.